Una commissione paritetica provinciale per la valutazione dei piani formativi aziendali è quella che è stata costituita in mattinata da Confindustria in collaborazione con CGL Cisle Will attraverso il protocollo d'intesa firmato oggi si è dato vita a un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori che finanzia piani formativi condivisi su temi quali innovazione, tecnologia, sviluppo organizzativo, competenze tecnico-professionali gestionali e di processo, ambiente e sicurezza L'organismo provinciale avrà anche l'obiettivo di sensibilizzare le imprese e i lavoratori sul tema della formazione continua quale leva strategica dello sviluppo Il protocollo istituisce una commissione paritetica tra Confindustria e Catania e le organizzazioni sindacali fa seguito a un accordo nazionale tra Confindustria nazionale e le altre organizzazioni sindacali per l'utilizzo dei fondi di fondi impresa e dei processi formativi Si tratta di stabilire dei percorsi certi sulla valutazione dei progetti di formazione evitando uno scollamento tra le richieste del territorio e le realizzazioni dei piani di formazione Il strumento è essenziale per la formazione delle professionalità per combattere la disoccupazione soprattutto giovanile che sappiamo è una piaga molto sentita a sud e soprattutto in Sicilia in modo particolare